Grazie, ma allora, mi dicono qui che ci siamo, ci sono un po' di operatori del settore, quindi vanno un po' più appunto nel merito delle questioni concrete. Allora, facciamo un semplicissimo ragazzo, come mai a gennaio l'Italia è il paese pubblicato del mondo, come la Russia, facciamo in prima, in prima in assoluto come click, come desiderio di essere visitati, poi a disservare l'ultimo siamo 26, e cosa succede nel frattempo? Nel frattempo succede che paesi che hanno fondamentali inferiori nostri crescono avendo il merito di proprio loro, quindi noi abbiamo, da questo punto di vista, la strada spiana, basta che facciamo come chi in questi anni ha fatto meglio di noi, tutto dopo. E che cosa hanno fatto meglio di noi? Hanno fatto meglio di noi appunto la promozione, hanno lavorato di più sulla qualità, e allora come stiamo operando noi per aumentare la spesa turistica, per migliorare la percentuale di PIL del settore, oggi è circa il PIL allargato del turismo, è evidente che con un po' di organizzazione, di santo lavoro, possiamo arrivare anche a un po' di turismo. Come? Allora, prima banalmente aumentando l'offerta turistica nel tempo e nello spazio, non esiste solo l'estate e l'inverno, ma l'Italia ha la fortuna di poter lavorare più durante l'anno senza grandi problemi. Anche perché noi ce la lavoriamo un po' di italiani, ma va da sé che per i nostri cittadini europei del nord e Europa, quello che per noi è un freddo otto ore e allora è tutto, quindi abbiamo tranquillamente la possibilità di allargare nel tempo il freddo. E poi nello spazio, abbiamo la possibilità e l'opportunità di allargare la fetta dello spazio, quindi non solo i grandi attrattori conosciuti in tutto il mondo senza grande fatica, per Venezia, Venezia, Milano, Napoli, ma appunto distribuire meglio l'offerta turistica nello spazio, nelle cosiddette aree interne, io preferisco chiamare aree intime perché mi dà più idea di cosa trovi fuori dai grandi centri, e poi abbiamo una miglia di realtà, sì, non è una piccola realtà, è una grande realtà, che ha enorme potenzialità di crescita. Come? Come possiamo arrivare bene? Ma soprattutto migliorando la qualità, migliorando la qualità da un lato dell'offerta e quindi ovviamente anche delle strutture ricettive e su questo stiamo operando, sarà pubblicato bene un decreto che va proprio in questa direzione, cosa? Invece di fare una misura complicata come il 150%, per tutte le strutture ricettive lo faremo in una misura semplice, quindi invece di fare una miglia di carte così, tu fai i lavori che vuoi fare, non solo l'efficientamento energetico, per l'amore di Dio va benissimo, però per rivedere una struttura ricettiva, il centro esterno che la sua intendenza fa lo santo di due classi energetiche, è ovviamente possibile, e quindi invece di fare cose cervellotiche, la possibilità di fare lavori per migliorare la nostra struttura, di qualsiasi tipo di genere, quindi dagli arrendi, all'ufficienza dell'energetico CERF, alle intervento di creditori, quello che si desidera. Ci mettiamo circa 2 miliardi, la parte di credito d'imposta e tutta la parte finanziare, perché poi va bene il credito d'imposta ma si deve fare un'operazione che serve anche accessor a credito e finanza, e finanza soprattutto a lungo, non in sei anni o in due anni di premontamento margiatri del fondo, quindi dai c'è nessuno, però vado sintetico, quindi questa è la prima parte, è una parte, dopodiché noi abbiamo la necessità di migliorare l'offerta turistica in tutte le fasi e per tutte le tasche, tra due. Va benissimo migliorare le strutture ricettive, perfetto, e quindi hai 5 stelle superiori, hai 3 stelle, ok, abbiamo la possibilità a tutti di migliorare la propria offerta, poi ci sono anche altre tipologie di turismo che finora sono state un po' snopate, penso per esempio, faccio l'esempio della camperistica, i camper sono stati un po' snopati negli anni, snopati perché è considerato un po' così da una certa idea per un turismo minore, va bene, parliamo, noi in Italia facciamo 28 mila, allo scorso abbiamo fatto 28 mila camper per più di un miliardi di euro, quindi se noi riusciamo a sviluppare questo settore ci ritornano anche nell'industria che produce questi camper. Però qual è il problema dell'offerta camperistica italiana? è che banalmente noi abbiamo 2 mila piazzone di qualità discutibile contro 4 mila di alta qualità della Francia, prodotto da molto troppo invece di scendere in Italia o in Francia. quindi banalmente mettendo in generazione quello che vogliamo fare per mille piazzone, diciamo un mille piazzone in più possiamo da 2 mila, da 2 mila a 3 mila, quindi aumentiamo di mille piazzone dando degli standard di qualità, banalmente facendo così intercettiamo un flusso turistico che è molto interessante e anche, cosa che un certo, una certa idea ricercita del settore non sa, anche ben splendente perché una famiglia con cancro spende 1 mila cento euro a 7 miliardi. E' un esempio per dire le tante cose che si possono fare per sviluppare l'industria turistica che oggi ha enorme potenzialità anche durante la stessa. Ma a prima della recessione ci sono tutte le fasi della fase turistica che vanno migliorate la promozione, la vendita, la vendita dei ticket, il trasporto, la ricezione appunto, l'erogastronomia, l'acquisto di quello che ho potuto provare nel ristorante e nel rinotente, l'acquisto ripetuto su internet successivamente, il feedback di come ti sei trovato. Quindi su tutte le fasi mi dobbiamo imporre l'attenzione e inalziamo il livello di comunità. Il punto chiave è appunto la promozione digitale. sulla promozione digitale noi abbiamo enormi, enormi margini di miglioramento. Abbiamo enormi margini di miglioramento sulla promozione digitale. Perché? Per il dato secco che abbiamo detto prima, come mai la standard riesce venendo di noi a vendere il prodotto? Perché vanno a fare mai. Lo stesso la Svizzera ha un portale digitale che è molto più efficace del nostro e quindi intercetta il nostro e quindi intercettamento. Noi a livello nazionale lo facciamo. Lo facciamo, dovevamo già via telegrave, i lavori sono già in corso e questo ci dà due benefici a livello nazionale. Innanzitutto la disponibilità del dato. Noi oggi abbiamo in grado delle presenze turistiche. Oggi abbiamo avuto le prime proiezioni. Però sono dati ancora troppo aggregati, non entrano nel dettaglio. E' difficile poi per gli operatori usare questi dati per fare delle offerte migliorate. Avremo, quando dico avremo, in qualche settimana, avremo la versione 20 di un bus foto che ci dà dei dati in tempo reale. Quali sono i flussi turistici, dove si è dormito, città per città, non provincia per provincia, città per città, da che nazioni arrivano, che fascia di età. In questo modo tu puoi, rendendo disponibili questi dati, che consentire agli operatori di fare davvero delle offerte migliorate e quindi di ampliare l'offerta turistica nel tempo e nello spazio. Come si fa a fare questo miracolo? E' chiaro che, se aspetti i dati dell'Insta, arrivano l'anno dopo non servono a niente. Sono dati statistici a posteriore non servono a niente. Noi oggi abbiamo tutto, abbiamo i dati della telefonia, abbiamo i dati del telefono, abbiamo i dati del treno, abbiamo i dati degli aerei. Semplicemente raccogliendo tutto disponibile riusciamo ad avere questo datamento da rendere disponibile alle operatori. Ma oltre a questo, quello che conta è come ti proponi sul mercato, quindi la parte marketing appunto dell'app, il digitale. Ma quello che facciamo noi è la grande cornice nazionale. Dopo ogni territorio deve sviluppare il dipinto del proprio territorio. Oppure delle tematiche. Stamattina eravamo a Pianciano e si parlava di terme. E' inutile che ciascuno va in ordine spazio. Se nel mondo qualcuno ha voglia di andare alle terme, deve trovare sul portale terme e trovare tutte le reti che cosa c'è in Italia. Se uno è appassionato, penso, di lirica, di musica classica, deve trovare quali sono le città che sono i siti migliori per quello tipo di tema a cui non interessate. Quindi da verde, in pesa, in montagna, in seno. Ecco, basta semplicemente organizzarsi e ottenere l'interfaccia diretta con gli utenti e con i clienti che sono sparsi nel mondo. Perché poi alla fine ci sono anche siti elementi che moltiplicati e persano solo numeri importantissimi. Anche qui faccio un esempio giusto per capire il concetto. L'altro giorno eravamo Ischia. A Ischia c'è un bellissimo sito di archeologia subacqua. Perfetto. Uno che ha voglia di andare facendo snogging oppure da sub a visitare il sito archeologico, lì lo può fare. Bene. Quanti saranno mai interessati a questo tipo di turismo in Italia? Non lo so. Magari una nicchia di 500 persone. Ok? Allora sono 500.000. Quindi riuscire a organizzare i singoli tempi, i singoli territori in maniera semplice, consente di moltiplicare enormemente i numeri. Cosa che gli altri hanno fatto. Quindi noi non dobbiamo fare nient'altro che copiare chi ha fatto meno di noi. Con la differenza che noi abbiamo è il fondamentale. Cosa che invece gli altri si devono creare da zero. E' una liberità dei prodotti. Noi prodotti ce li abbiamo. Dobbiamo solo metterli in moto. E vengo a Siena. E qui avete la fortuna di mettere in mostra dei prodotti che altri non hanno. E quindi, oltre ovviamente alla città di Siena che offre quello che offre, cioè tantissimo, poi c'è tutto il circondare. Tutto il circondare che oggi viene sempre più visitato con modalità alternativa. Quindi direttamente del cambio. E sicuramente è un settore in esplosione. Anche prima del Covid, ma esplosione mortificata dal Covid. Stessa cosa le macchine, le biciclette elettiche. Facciamo prima l'esempio quando eravamo parlato da Milano. Vado in montagna in Marseleano, c'è una presonana. Perfetto. A castello della presonana, piccolo, piccolissimo, comune della Marseleana, noleggiano, ci sono 500 biciclette elettriche a Noleggio. Pensate alla potenzialità di questo settore. Sono solo 500 perché non mi consegnano le altre, sennò sarebbero già mille. Lì addirittura i vigili devono stare in giro perché c'è troppo traffico di bike. È chiaro che in un territorio bellissimo come questo, uno dall'hotel prende il bike, può fare un giro, non si fa l'eroica con le bike. Io che ho 53 anni, mi togno 30 anni e posso farlo tranquillamente. Ecco, queste cose diventeranno sempre più normali e sempre più all'ordine del giorno. Quindi più si riesce a sviluppare velocemente e più si riesce a farlo. Oh mamma mia, a questo punto non gli viene una di testa, ma può dire che devo fare i circuiti, devo realizzare le singole stazioni per ricaricare, devo mettere in rete i breakfast, i punti di risposta, devo mettere in rete i punti di noleggio, un lavoro enorme. Allora, a ferragosto vado a trovare un bambino Svizzero, da Cervagliani, dormo a Venezia, qui è una fata in Lugano, e nel hotel che cosa mi trovo? Un simpaticissimo libicino, che rimane ovviamente al sito, e cosa c'è nel libicino? I percorsi per il bambino, 15 punti di ricarica, 25 vederbrecca strabessi in rete, 3 punti di noleggio, cioè hanno già fatto tutto. E noi stiamo pensando di farlo. Quindi quando diciamo che dobbiamo copiare le esperienze migliori esistenti, vuol dire che dobbiamo metterci a correre e copiare le esperienze migliori esistenti. E noi abbiamo fatto questo esempio. L'altro esempio, abbiamo avuto la fortuna con l'assessore di andare sul treno storico, che parte proprio da Siena, arriva a Monta e Meata, ma è la tratta più bella del treno esplosso. Normalmente devo pensare al treno veloce, al treno veloce, è un mezzo di trasporto, ti porta da qui a qui. Mentre sei su, dormi e speri che finisca il più possibile. Lì è diverso, quello è un viaggio. Tieni giù il finestrino, guardi in fronte. Respiri. Respiri la natura, respiri uno dei posti più bella. E speri che non finisca male. Quindi, voi avete la fortuna di avere una tratta più bella del treno storico, e questa cosa va la spinta a Manetta. Noi veniamo a Manetta, perché il 9 di ottobre facciamo un evento sul treno storico che va da Milano a Romo, dove presenteremo a tutti i tour operatori italiani e più grandi e a tutti i tour operatori internazionali la rete dei treni storici che abbiamo in Italia. Modalità di sviluppo del turismo nelle cosiddette aree minori, nei cosiddetti borghi, nelle cosiddette città d'arte minori, che altrimenti noi continuiamo a guardare il turismo nei borghi da quando c'erano i guardanti porti e ancora non ci arriva. Ecco, questa è una modalità per farlo arrivare lì. Oltre al e-bike, quindi avete anche questa enorme fortuna. E poi avete una enorme fortuna che si chiama enoturismo. Ora, prima il sindaco mi ha fatto venire mal di fegato e mi riprenderò dal shop per qualche giorno a sapere che qui mettono a basta il marchio delle lotte nazionali. Cioè, è una cosa da male. Cioè, bisognerete prendere che hai fatto questo sceglio e staccare le orecchie. Io non ho altra cosa da pensare. Come è possibile uno sceglio del genere? Perché è uno sceglio? Perché riduciamo proprio l'avventura per portare in Italia il congresso mondiale dell'enoturismo. Mondiale. Organizzato dall'Organizzazione dell'Ono Fisiopro del Turismo. Sono 158 paesi associati, quindi praticamente tutto il mondo. La portiamo in Italia, come mai? Perché è la sesta edizione e nessuno ha mai pensato di telefonare a dire venite in Italia. Beh, l'abbiamo telefonata e il risultato l'anno prossimo si fa in Italia. Bene. La facciamo in Italia, la facciamo Alba, Pienonte, Italia. Però la facciamo precedere da una serie di eventi in tutte le regioni in cui si parlerà di eroturismo. Io penso che sia la Montipugiano, sia proprio... dove lo fai se non qua? Un evento di questo tipo. Facciamo precedere l'evento nazionale nelle singole regioni dove si fa davanti l'enoturismo. Lì ho presente la Franciacorta perché metterlo lì è per me più facile andarci. A me in Franciacorta ci sono cantine che ormai guadagnano di più addirittura dall'enoturismo che dalla vendita dei bini. O comunque, anche se non guadagnano di più, hanno dei margini importantissimi. Ce n'è una, non faccio un nome, solo perché non voglio fare pubblicità, secondo me mi ve la Franciacorta perché ve lo dico di nascosto, ha fatto ad agosto 30.000 visitatori paganti. 30.000. Ma paganti più di 100 euro, non paganti 10 euro per una gara di un progettivo. Sono numeri impressionanti. Quindi qui abbiamo un altro mercato che ha una potenzialità pazzesca. Ecco, riuscire solo a mettere a dentro le cose che abbiamo detto, le bike, il treno storico, l'enoturismo, e qui avete una frateria. E' quello che dicevamo all'inizio. Qui i siti fondamentali ci sono. Gli altri, Spagna, la stessa Svizzera, il Giappone, riescono a fare numeri importanti vendendo poco che hanno. Ecco, noi se riuscissimo a vendere decentemente l'enorme patrimonio che abbiamo, chiaramente non c'entra nessuno. Grazie. Grazie.